Panico, paure e tre feriti per un'esplosione al Dipartimento di Chimica dell'Università di Pisa. Erano passate da poco le nove, lo vedete nelle immagini girate dal nostro operatore, quando al secondo piano di questo nuovo edificio, insegnanti, studenti e ricercatori hanno sentito un boato che ha visto coinvolte tre persone. Una di queste si è ustionato ad una mano ed è stato immediatamente portato al Cisanello. Le sue condizioni non sarebbero gravi? Le altre due persone coinvolte sarebbero stati interessati marginalmente dallo scoppio e sono adesso al pronto soccorso per accertamenti. Sembra che l'incidente sia stato causato da una forte reazione chimica non controllata che si sarebbe verificata all'interno di una cappa di aspirazione di un laboratorio. In ogni caso si sono liberate sostanze che hanno comportato la necessità di evacuare i locali, anche, secondo quello che prevede il piano di emergenza applicato dagli operatori. La zona, come vedete, è stata transennata dalla Polizia Municipale anche per consentire le operazioni di bonifica in sicurezza. Le elezioni del Dipartimento saranno sospese anche nella giornata di mercoledì 24.